Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione ai sensi dell'articolo 143,4 del regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio, al quale diamo il benvenuto, sulle linee programmatiche in materia di poste e telecomunicazioni. In primo luogo ringraziamo tutti il Ministro per aver accettato l'invito della Commissione, c'è dunque la parola al Ministro Di Maio. Grazie Presidente, grazie deputati e deputate. È di vitale importanza per il nostro Paese investire sull'innovazione e sulla tecnologia. Nel futuro le infrastrutture di rete e di telecomunicazioni saranno sempre più rilevanti per essere interconnessi con tutto il mondo. Abbiamo assoluta urgenza di costruire le nuove autostrade digitali, la nostra alta velocità digitale. Nel dopoguerra grazie a pesanti investimenti nelle infrastrutture con la costruzione di autostrade, raccordi, metanodotti e ferrovie, si posero le basi di quello che sarebbe stato chiamato il miracolo economico. Noi oggi vogliamo invertire la tendenza investendo tutte le risorse disponibili sulle tecnologie di domani, che poi sono sempre più di oggi. Banda ultralarga, 5G, blockchain, intelligenza artificiale, quantum computing, per creare l'infrastruttura digitale che sia la base per un nuovo miracolo economico. Il nostro Paese è indietro sul digitale, sull'offerta di servizi e anche, seppur con differenze tra zona e zona, sulla penetrazione della banda larga. Siamo in coda a tutte le classifiche europee, soprattutto con riferimento ai servizi e alle competenze digitali, non a causa di una guerra, ma a causa di scelte politiche che secondo noi non sono state lungimiranti, dove coloro che avrebbero dovuto operare nel segno di una visione di lungo periodo hanno invece agito coltivando il proprio orticello. Vogliamo invertire questa tendenza, mettere l'Italia al passo con il resto d'Europa e del mondo e diventare un'eccellenza anche in questo campo. L'innovazione digitale ha la capacità di trasformare interi settori della vita economica in maniera radicale, proiettandoli in una dimensione nuova nella quale vediamo grandi opportunità, ma anche grandi criticità da affrontare con attenzione sul versante regolamentare. Dall'agroalimentare al turismo, alle banche, ai servizi finanziari, fino ai servizi per la mobilità, nessun settore economico risulta escluso dalla rivoluzione. E il ruolo della politica deve essere quello di favorire i processi di sviluppo in atto, garantendo al contempo un pieno rispetto dei diritti di tutti i soggetti interessati, cittadini in primis. Il settore pubblico deve avere un ruolo trainante nel trasformare il nostro Paese in una smart nation, ma è necessario che le politiche pubbliche in questo ambito siano tra loro pienamente integrate e coordinate. Vogliamo promuovere la creazione in seno ad ogni ministero di un avamposto digitale che sovraintenda le iniziative digitali dei singoli ministeri e si coordini con gli altri ministeri in una strategia di sviluppo unitaria. Riteniamo fondamentale il contributo dei componenti di questa Commissione, nonché dell'intergruppo Innovazione, nella direzione prospettata in termini tanto di proposte legislative quanto di suggerimenti per l'esecutivo. Nel prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione Europea per il 2021-2027, la Commissione Europea ha intenzione di dedicare 9,2 miliardi di euro nel programma Europa Digitale, concentrando le risorse in cinque settori. Il primo è quello dei supercomputer, sono previsti 2,7 miliardi di euro per finanziare progetti di sviluppo e rafforzamento delle capacità di supercalcolo e trattamento dei dati in Europa. Il secondo è quello dell'intelligenza artificiale, 2 miliardi e mezzo sono previsti per contribuire a diffondere l'intelligenza artificiale nell'economia e nelle società europee. Cyber sicurezza e fiducia, 2 miliardi saranno investiti nella salvaguardia dell'economia digitale della società e delle democrazie dell'Unione Europea. 4, competenze digitali, 700 milioni di euro per assicurare che attualmente e in futuro i lavoratori abbiano la possibilità di acquisire facilmente le competenze digitali con corsi di formazione a breve e lungo termine e con tirocini sul posto di lavoro. 5, garantire un vasto uso delle tecnologie digitali nell'economia e nella società. 1 miliardo e 300 milioni di euro assicureranno la trasformazione digitale della pubblica amministrazione dei servizi pubblici e la loro interoperabilità a livello di Unione Europea. Inoltre faciliteranno l'accesso delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, soprattutto delle più piccole, alla tecnologia e al know-how. Per quanto riguarda la blockchain, l'Italia deve avere un ruolo trainante nello sviluppo di questi settori e rendere il nostro Paese protagonista del cambiamento. Un ambito particolarmente interessante è quello di questa tecnologia, la blockchain, che sta diventando sempre più centrale nello sviluppo del digitale, tanto a livello di iniziativa privata quanto nel settore pubblico. La rete dello scambio di valori che promette di diventare la nuova Internet nello scenario della quarta rivoluzione industriale sta attirando investimenti significativi a livello globale e proponendo questioni regolatorie particolarmente rilevanti. L'Italia non può rimanere indietro nella dinamica in atto e ha tutte le potenzialità per diventare un Paese leader nella sperimentazione di questa tecnologia, per tutti quegli ambiti in cui si necessita di una relazione di fiducia, come ad esempio nello scambio dei titoli e azioni o durante una votazione elettorale. Altri ambiti applicativi sono quelli della logistica e della pubblica amministrazione. Oggi manca ancora una strategia nazionale sulla tecnologia blockchain che come Ministero intendiamo promuovere. Avvieremo quindi un gruppo di lavoro sulla blockchain coinvolgendo tutti gli attori dell'ecosistema dalle istituzioni ai centri di ricerca alle università fino ad arrivare alle start-up che sperimentano sul campo questa innovativa tecnologia al fine di predisporre una strategia nazionale. A livello di Unione Europea stiamo compiendo i passi formali necessari per aderire alla partnership europea sulla tecnologia blockchain che intende essere un veicolo per migliorare la cooperazione tra i Paesi favorendo lo scambio di esperienze e conoscenza sia dal punto di vista tecnico che regolatorio sul fenomeno. L'Italia è uno dei pochi Paesi membri che non ha ancora aderito a questa partnership e intendiamo immediatamente colmare questa lacuna grave se solo si considera che la mancata adesione da parte italiana rischia di vedere escluse le aziende italiane del settore dall'accesso ai programmi di finanziamento europeo. Intelligenza artificiale. Lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale cui stiamo assistendo in tempi recenti propone questioni regolatorie fino ad ora inesplorate. La possibilità di affidare ad una macchina l'elaborazione di un numero tendente all'infinito di dati, cosiddetto big data, con la potenza di calcolo e le tecnologie oggi disponibili consente di elaborare diagnosi cliniche, assumere decisioni amministrative, predire fatti e informazioni rilevanti. Questa nuova dimensione propone questioni etiche e giuridiche nuove che i poteri pubblici devono conoscere, approfondire e affrontare nell'ottica di correggere le potenziali storture. La priorità assoluta per l'Europa e per il nostro Paese è quella di aumentare gli investimenti pubblici e privati nell'intelligenza artificiale, nelle tecnologie strettamente connesse, portandoli almeno ai livelli registrati in Asia e Nord America. Lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale deve vedere l'uomo al centro del suo dialogo con le macchine che indifferi di, indefettibilmente, devono essere in grado di spiegare le decisioni assunte sulla base degli algoritmi. Altri Paesi europei hanno avviato strategie nazionali sull'intelligenza artificiale al fine di canalizzare gli investimenti in questa tecnologia e fondare le basi etico-giuridiche per lo sviluppo della stessa. L'Italia deve fare la propria parte in questo dibattito internazionale. Come Ministero dello Sviluppo Economico intendiamo promuovere l'elaborazione e la realizzazione di una strategia nazionale anche con riferimento all'intelligenza artificiale. Avvieremo, pertanto, un gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale coinvolgendo tutti gli attori di questo ecosistema. La piena realizzazione degli obiettivi della strategia italiana per la banda ultralarga è essenziale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Il riconoscimento e la garanzia di un'infrastruttura di rete efficiente, accessibile e sicura è un nostro obiettivo. L'obiettivo della strategia nazionale per la banda ultralarga è quello di garantire al 2020 la copertura con reti ultraveloci di oltre 100 Mbps, almeno l'85% della popolazione italiana. La copertura ad almeno 30 Mbps alla totalità della popolazione italiana e la copertura di oltre i 100 a tutte le sedi, edifici pubblici, poli industriali, aree di interesse economico e concentrazione demografica nonché delle principali località turistiche e degli snodi logistici. Negli ultimi anni gli attori pubblici interessati e gli operatori del settore hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi prefissati. Guardiamo con interesse alle iniziative volte alla creazione di una società della rete unica sul modello Wall Sale Only, in grado di consentire agli operatori di competere sul terreno dei servizi. Sul piano delle politiche pubbliche occorre fare di più avviando anzitutto un ripensamento della governance nella gestione della strategia nazionale. Allo Stato attuale vi sono diversi livelli di governance e una moltiplicità di soggetti coinvolti. Questa situazione da un lato determina delle criticità nello stanziamento delle risorse disponibili e sotto un altro profilo incide sulla velocità nell'attuazione della strategia nazionale. Vogliamo procedere nella direzione di una semplificazione al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse disponibili, nonché l'unitarietà e la velocità nell'adozione degli interventi necessari per la realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Sul piano operativo registriamo come dei forti ritardi nella infrastrutturazione delle aree. Sono stati determinanti dai ritardi nei processi per il rilascio delle autorizzazioni che riguardano molteplici istituzioni identi, comuni, province, regioni, sovrintendenze e attori quale ANAS e Ferrovie dello Stato. Bisogna accelerare il più possibile i processi di autorizzazione favorendo il dialogo tra i diversi livelli istituzionali coinvolti e assicurando forme più incisive di controllo dello Stato e di avanzamento delle opere realizzate. Un'ulteriore attività fondamentale per la realizzazione della strategia nazionale riguarda la definizione della seconda parte del piano nazionale banda ultralarga, con l'intervento nelle aree grigie, impegnando quindi i fondi previsti in delibera Cipe, previa ripresa del dialogo in materia con la Commissione europea, con le direzioni DigiConnect, Comperregio. Ci impegneremo in questa direzione partendo dal COBUL e assicurando che questa parte cruciale della strategia nazionale venga portata a compimento. 5G. Il 5G è la tecnologia abilitante della quarta rivoluzione industriale. Stiamo entrando in un mondo nel quale la combinazione virtuosa di più tecnologie, 5G, blockchain, intelligenza artificiale e internet delle cose, consentirà di migliorare i processi produttivi, modificherà le abitudini di consumo, determinerà in estrema sintesi un salto tecnologico epocale del quale l'Italia deve essere pienamente protagonista. Anche attraverso lo sviluppo del 5G vogliamo fare dell'Italia una smart nation, favorendo la sperimentazione, l'adozione e il rilascio di nuovi servizi e in prospettiva piattaforme digitali di nuova generazione. Secondo il calendario comune a sostegno del lancio coordinato delle reti 5G in Europa, istituito dalla Commissione europea, bisogna garantire entro il 2020 copertura e servizio commerciale disponibili in almeno una grande città. Entro il 2025 copertura 5G in tutte le aree urbane e sui principali assi di trasporto terrestre. L'11 luglio 2018 il MIS è avviato la procedura di gara per l'assegnazione di uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz. Si prevede di chiudere la gara entro settembre 2018 in modo da contabilizzare gli introiti entro la fine dell'anno. Gli introiti stimati sono pari a circa 2,5 miliardi. Le frequenze in banda 700 MHz, 694-790 MHz saranno assegnate il primo luglio 2022, mentre quelle in banda 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 entro il 31 dicembre 2018. In relazione alla procedura di assegnazione di queste frequenze, così come delineata a livello comunitario e nazionale, il Ministero nei prossimi giorni provvederà a pubblicare la roadmap nazionale assicurando il rispetto del termine ultimo del 2022. Al contempo, alla luce dei contenuti della segnalazione trasmessa dalla G.com al Governo, ai sensi dell'articolo 1,6 lettera C numero 1 della legge 31 luglio 97 numero 249, in data 17 luglio 2018, che abbiamo analizzato con grande attenzione, il MISE istituirà un tavolo di coordinamento tra tutti i soggetti interessati, a fine di assicurare che il percorso di trasformazione del sistema radio televisivo e il trasferimento delle frequenze nella banda 700 MHz avvenga senza ritardi rispetto alle scadenze stabilite. Assicurando gli obiettivi di bilancio, ma nel contemperamento delle esigenze legittime di tutti gli attori coinvolti. Sempre in questo ambito vogliamo procedere ad una complessiva spectrum review, diretta a migliorare la locazione ed utilizzo dello spettro anche al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie per il bilancio pubblico. Infatti ci risulta che diversi soggetti pubblici, in primis il Ministero della Difesa e degli interni e privati, utilizzino diverse parti dello spettro in modo non ottimale. Ad esempio nella banda 3.4-3.6 GHz ci sarebbe una ampia parte di spettro di rilevante interesse commerciale occupata dal Ministero della Difesa e di cui potrebbe essere ottenuta la liberazione, tra virgolette, al fine di destinarla ad una ulteriore gara con possibile introito di risorse significative per il bilancio pubblico e maggiore offerta. Una stima precisa del valore di tali frequenze sarà possibile solo dopo l'espletamento della gara 5G. Avvieremo in questa direzione un'interlocuzione con i Ministeri coinvolti a fine di dare avvio ad un processo atteso da molti anni e che nella fase attuale si rende necessario. Su questo dossier del 5G ci tengo a dire che il Ministero con la pubblicazione e l'avvio della gara ha semplicemente concluso un percorso fatto dal precedente Governo e di cui do atto e ringrazio al collega ex Sottosegretario Giacomelli. L'accesso ad una rete libera e neutrale in condizioni non discriminatorie deve essere riconosciuto come diritto di cittadinanza nella dimensione digitale. L'esempio proveniente da altri Paesi europei nei quali si è riconosciuto questo diritto nella dimensione sociale può essere da stimolo per una riflessione anche alle nostre latitudini nel solco intellettuale tracciato dalla Commissione preseduta dal compianto Professor Rodotà. Lo stimolo della domanda di banda ultralarga e di servizi digitali è essenziale per giungere in tempi brevi ad una piena digitalizzazione del Paese. Secondo il Desi Index 2018 sul fronte della connettività l'Italia si colloca a terz'ultima seguita solo da Croazia e Grecia. Sebbene la banda larga fissa sia disponibile per il 97% delle case dell'Unione Europea, il 25% di case non ha un abbonamento. Nel caso dell'Italia però questo valore è del 43%, quindi 18 punti più alto della media. Bisogna immediatamente utilizzare le risorse disponibili pari a 1,3 miliardi per stimolare la domanda di banda ultralarga. Nelle prossime settimane avviando un dialogo con tutti i soggetti interessati elaboreremo le migliori modalità di utilizzo delle risorse disponibili anche valutando azioni volte a garantire un accesso di base ad internet generalizzato. Sempre sul fronte dello stimolo alla domanda dei servizi digitali daremo ulteriore impulso al piano wifiitalia.it. Anzitutto avviando la seconda fase del progetto che prevede il rinnovo dell'app dedicata, la creazione di un software ad hoc per i portatili e il rilancio e il lancio dei bandi per i comuni per l'installazione degli hotspot e in collaborazione con il MIBACT per i luoghi della cultura. Continueremo la collaborazione con la DigiConnect nell'ambito del programma Wi-Fi EU che ha bisogno di un maggiore stimolo. La mappatura delle reti esistenti è cruciale per una corretta pianificazione degli interventi per favorire la condivisione delle infrastrutture già esistenti e in termini generali per la valorizzazione delle informazioni disponibili. L'istituzione del SINFI, il catastro del sottosuolo, vuole dare contezza del dispiegamento su tutto il territorio nazionale delle reti di servizio, siano essi di telecomunicazioni o di utility quali acqua, elettricità, gas e teleriscaldamento. Il sistema SINFI realizzato in Italia e installato sul data center del MISE è stato aperto al pubblico nella sua prima release ad aprile 2018. Ha raccolto e reso disponibile una moltiplicità di informazioni relative a tutti i principali operatori di telecomunicazione, elettricità, illuminazione pubblica, gas e gestione delle acque, offrendo importanti vantaggi agli operatori e agli enti territoriali, chiamati rispettivamente a realizzare e verificare progetti per il dispiego di nuove reti. Allo stato attuale 5 561 operatori e la gran parte dei comuni italiani, solo 7 adempienti, non hanno comunicato o trasferito i dati al SINFI. Occorre invertire questa tendenza, per usare un eufemismo, perché il SINFI e la piena valorizzazione dei dati contenuti può rappresentare un'occasione di crescita, nonché uno strumento utilissimo nelle situazioni di crisi. Si pensi in particolare agli eventi sismici nei quali una conoscenza approfondita in tempo reale delle reti esistenti sembra essenziale. In questa direzione avvieremo al più presto la redazione del regolamento per il SINFI che disciplinerà i procedimenti sanzionatori a carico degli operatori inadempienti nella comunicazione dei dati e al contempo definirà la disciplina di accesso ai dati per i diversi soggetti coinvolti, operatori economici, enti territoriali e pubbliche amministrazioni. La valorizzazione dei dati disponibili è essenziale in una logica di data economy che intendiamo incoraggiare e sostenere nella nostra azione di governo. Il progetto SINFI arricchirà sensibilmente anche le competenze delle community italiane di software cartografici open source. L'adozione di un modello di sviluppo aperto e interoperabile ha già visto un'importante partecipazione di start-up e micro imprese italiane nell'offerta di studi, servizi e sviluppi software innescati proprio dal SINFI. RAI. Il servizio pubblico ha un ruolo essenziale nella digitalizzazione del Paese e nella diffusione delle competenze digitali. Il mercato radiotelevisivo ha conosciuto negli ultimi anni una rivoluzione copernicana. La fruizione dei contenuti audiovisivi passa sempre più attraverso la connessione a internet e l'utilizzo della banda larga. Con il palinsesto che cede il parso alla personalizzazione dei contenuti, non esiste più il pubblico ma una varietà di pubblici che a secondo delle esigenze utilizzano diversi media e costruiscono il proprio palinsesto. È come se si stessero cristallizzando due universi di pubblico, coloro che possono permettersi l'accesso a quei contenuti e coloro che al contrario devono accontentarsi della programmazione generalista. Un divario anche generazionale che pone quindi di un problema di uguaglianza e universalità nell'accesso ai contenuti di qualità. In un mercato che evolve in questa direzione il dovere del servizio pubblico è di adoperarsi per colmare questo divario, puntando con decisione sui contenuti di qualità e dal respiro internazionale, sperimentando formati e linguaggi nuovi, avviando progetti innovativi coerenti con il nuovo ecosistema dei medie e promuovendo infine l'alfabetizzazione digitale. Come Ministero dello Sviluppo Economico metteremo in campo tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto del contratto di servizio, istituendo in particolare la Commissione Paritetica Mise Rai a cui sono attribuiti compiti di vigilanza sugli obblighi contrattuali, la Commissione Paritetica Mise Rai chiamata ad elaborare le linee guido operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che la Rai deve definire con riferimento alla durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale e il Comitato di confronto Mise Rai competente in materia di programmazione sociale. Contributi alle TV locali. Le emittenti televisive e radiofoniche locali rivestono un ruolo importante per quanto ci riguarda, per la garanzia del pluralismo informativo. Sono ora affidate al Ministero dello Sviluppo Economico le funzioni amministrative prima svolte dai Corecom regionali, istruttoria delle domande del contributo, relativi controlli e adozione del provvedimento di determinazione della graduatoria, con l'obiettivo di semplificazione e riduzione dei tempi. È stata creata un'apposita piattaforma telematica, il sistema informativo per i contributi alle emittenti locali, il SICEM, per consentire di digitalizzare la presentazione delle domande di contributo e di ridurre i tempi di concessione. Tra le prime azioni del nuovo Governo il 12 luglio è stata pubblicata online sul sito del MISE, la graduatoria per la ripartizione dei contributi dell'annualità 2016 per le emittenti televisive a carattere commerciale. Le risorse da assegnare ammontano a 78 milioni di euro in quanto la restante quota dei complessivi 97 milioni da assegnare è stata già destinata alle radio locali e alle TV a carattere comunitario, senza scopo di lucro o con limitazioni alla vendita di spazi pubblicitari. Vogliamo accelerare l'erogazione dei contributi relativi all'annualità 2017-2018, comprendendo che allo stato attuale questi contributi sono determinanti per la sopravvivenza di molte realtà radio televisive locali. Intanto intendiamo rafforzare i controlli sull'utilizzo dei contributi concessi e favorire processi di trasformazione tecnologica da parte degli operatori radio televisivi locali nella consapevolezza che il mercato richiederà forme di aggregazione tra emittenti locali, una digitalizzazione dei servizi e la garanzia della qualità dei contenuti anche informativi offerte ai cittadini da queste importanti realtà. Poste. Nel corso della scorsa settimana abbiamo provveduto ad emanare il decreto relativo al disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali di notificazione di atti giudiziari e di violazione al codice della strada. Con questo nuovo regolamento, in attuazione del nuovo regolamento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni a Gcom adottato con la delibera 77-18 del Consiglio del 20 febbraio 2018, dopo quasi un anno dall'emanazione della legge annuale sulla concorrenza è stata eliminata quella riserva di area, di attività che poste italiane gestiva in monopolio e che invece ben poteva essere aperta al confronto concorrenziale. Il provvedimento prevede la classificazione delle domande distinguendo nelle singole tipologie, ciascuna contrassegnata con un proprio codice identificativo e indica le modalità di presentazione della domanda attraverso la compilazione degli appositi modelli. La proroga fino a 30 giorni del suddetto termine di 45 giorni per il rilascio in caso di domande incomplete, l'obbligo del pagamento del contributo a titolo di spese per il rimborso delle spese distruttorie, i requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale, la disposizione che la licenza possa essere lasciata anche all'operatore postale capogruppo, ovvero il soggetto svolge il servizio con i mesesimi segni distintivi, la richiesta di documentazione comprovante i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, la procedura sanzionatoria, ossia l'adozione del provvedimento di sospensione orevoca della licenza. Si tratta di un primo provvedimento particolarmente significativo per l'apertura del settore postale. Sotto questo profilo pensiamo che l'e-commerce rappresenta una grande opportunità per il settore e poste italiane possa e debba tornare ad avere un ruolo trainante tanto nel settore del commercio elettronico quanto più in generale nel processo di digitalizzazione del Paese. Vi ringrazio il resto a disposizione delle domande. Grazie, allora iniziamo un primo giro di domande chiaramente dando rappresentanza a tutti i gruppi. Quindi chi si è iscritto per prima? Liuzzi, prego. Grazie Presidente e grazie Ministro per l'intervento e le faccio i complimenti perché per la prima volta c'è un discorso a 360 gradi sull'innovazione e sul digitale che va anche ben oltre la delega di sua stretta competenza delle telecomunicazioni ma che abbraccia tutto il suo dicastero proprio nell'ottica, come giustamente diceva lei, di creare un'infrastruttura digitale che sia la base di rinascita di questo Paese, di questo nuovo miracolo economico. L'avamposto digitale che lei ha citato, che possibilmente deve essere inserito in ogni ministero può essere una soluzione per colmare la governance frastagliata che c'è stata attualmente nel passato riguardo al digitale e all'innovazione. Ed è assolutamente apprezzatissimo che il primo argomento oggetto di queste linee programmatiche sia in relazione alla tecnologia blockchain. Questo vuol dire guardare al futuro, guardare anche alle possibilità di sviluppo relative alle imprese, alle aziende che ci possono essere in questo Paese e mi fa molto piacere che sia stato detto chiaramente che si debba aderire alla partnership europea che attualmente vedeva come paese, come grandi paesi soltanto l'Italia è esclusa a livello europeo. Quindi bene che ci sia adoperi per partecipare a questo livello di cambiamento europeo proprio perché sono in ballo anche dei soldi che l'Unione Europea concederà a dei progetti europei relativi alla blockchain e a tutto il settore che va dietro a questo tipo di argomento. E soprattutto possiamo anche recuperare delle aziende o comunque delle giovani menti che attualmente vanno via vanno in UK piuttosto che a Malta. Quindi è importante avere un piano nazionale sulla blockchain come avere un piano nazionale sull'intelligenza artificiale perché questo sicuramente farà dare una boccata di ossigeno alle nostre aziende e alle nostre imprese. Sul modello Walls & Olli e autorizzazioni condivido assolutamente tutto ciò che ha detto e di particolare interesse la risposta a quegli operatori esclusi da alcune gare in relazione al 5G che potrebbero rientrare proprio grazie a questa razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse e delle frequenze proprio in un'ottica di spectrum review che non è più procrastinabile è diventata di un'urgenza assolutamente forte e che può dare anche importanza a una risorsa scarsa quella delle frequenze che però può dare tanto nel futuro. A tal proposito aspico che sia anche rivisto come segnalato giustamente dall'Agicom il limite dell'assegnazione è un terzo delle frequenze alle televisioni locali e questo tavolo va fatto il prima possibile per rispettare a pieno tutte le scadenze della roadmap che non possono essere rimandate quindi questo credo che comunque ci sia da tutte le parti interessate una voglia di venirsi incontro e quindi di superare questo limite. Anche interessante la parte in cui lei ha citato l'intergruppo innovazione che è stato e questo vuol dire dare centralità al Parlamento perché ha fatto un buon lavoro la scorsa legislatura e sicuramente lo farà anche in questa legislatura. Le mie domande riguardano soprattutto la sfida principale per l'Italia che è rappresentata dalla carenza di competenze digitali. Adesso abbiamo a disposizione come lei ha anche ricordato questo 1 miliardo e 300 milioni di euro che possono essere da stimolo alla domanda e anche qui auspico che si faccia quanto prima un tavolo di raccordo perché questi soldi e queste risorse possono essere spese anche in parte per colmare queste carenze di competenze digitali che le aziende lamentano perché purtroppo c'è una forte richiesta di risorse che abbiano competenze nei vari settori digitali che attualmente purtroppo le aziende non riescono a incontrare. Quindi anche qui anche un piano nazionale per le competenze digitali sia assolutamente necessario proprio perché nell'indice desi proprio in quel settore siamo purtroppo negli ultimi posti. Sul 5G anche qui c'è la possibilità di inserire nel piano delle sperimentazioni in maniera puntuale anche le sperimentazioni che sono state escluse o comunque che sono fuori dal bando del 5G e mi riferisco a Roma, Torino e adesso anche a Genova che devono essere comprese nel piano di sperimentazione in maniera chiara proprio per avere la possibilità di partecipare a quel piccolo fondo di sperimentazione che adesso è di circa 500.000 euro ma che spero possa essere aumentato nel futuro e quindi possa essere inserito nell'ottica strategica e anche nella politica del suo dicastero. Ultimo appunto ha ricordato il professore Rodotà e questo credo che sia per il Parlamento un fattore che va assolutamente sottolineato. Grazie. Grazie. Bergamini. Grazie Presidente. Breve commento e due domande per il Ministro. Dunque lei ha fatto un quadro, Ministro, chiaramente condivisibile. L'Italia ha un fortissimo bisogno di investimenti in tecnologia e in digitalizzazione. Il nostro Paese rischia di uscire dal radar globale perché scontiamo un ritardo di infrastrutture digitali innovative che ormai sta diventando patologico quindi certamente l'impegno di tutto il Paese, maggioranza e opposizioni, deve essere quello di fare un passo in avanti urgentissimo, altrimenti davvero rischiamo che questo ritardo si trasformi in un evento esiziale per la nostra economia, per il nostro stesso modo di esistere. Ora, lei ha detto che vorrebbe che fosse il settore pubblico a svolgere un ruolo trainante naturalmente noi preferiremmo che fosse il settore privato, ci piacerebbe che le start-up italiane non dovessero chiudere a causa dello strapotere degli over the top o dei grandi centri media globali che ci fosse veramente la possibilità per le imprese italiane che sanno fare impresa e che soprattutto per la caratteristica proprio del nostro modo di fare impresa sarebbero perfette per tutto quello che riguarda il settore dell'innovazione e della digitalizzazione ci piacerebbe che fossero messe in grado di competere, ci piacerebbe davvero che fosse il settore privato a essere trainante, che il settore pubblico si limitasse a facilitare questo percorso sono visioni diverse, però noi riteniamo che la strada dovrebbe essere un'altra. Lei ha annunciato una strategia diciamo abbastanza organizzata, in parte mi sembra di risentire degli ecchi anche della Francia macroniana rispetto all'artificial intelligence e tutto il resto però poi di fatto ci ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro. Ora per la mia modestissima e sommessa esperienza parlamentare, di solito quando si reclamano istituzioni e gruppi di lavoro è perché non si ha la più pallida idea di cosa fare o non si ha niente da annunciare. Speriamo che non sia così nel vostro caso perché qui stiamo veramente rischiando il futuro del Paese però ecco diciamo oltre ai gruppi di lavoro forse ci vorrebbe qualche cosa di più. Due domande, la prima, reti 5G, allora le dobbiamo sviluppare, gara eccetera eccetera gli investimenti sono già stati tanti e grossa parte degli investimenti per lo sviluppo delle reti 5G se li sono sobbarcati gli operatori delle TLC, circa 75 miliardi sino ad oggi. Ce ne vorranno molti di più, molti di più. Allora io vorrei chiederle che tipo di garanzie questo governo intende dare per facilitare perché qui ci servono diciamo una stabilità del quadro normativo, una stabilità di regole, chiarezza tutte cose che sono ancora un obiettivo da raggiungere. Allora che tipo di garanzie il governo intende dare affinché questi investimenti ci siano perché come si dice non dalle mie parti senza quattrini geneminga. La seconda domanda che le faccio è se secondo lei la rete team deve o non deve essere pubblica. Nel caso la risposta fosse affermativa naturalmente penso che sarebbe utile per la Commissione sapere che tipo di strumenti il suo governo, il governo che lei rappresenta, intende mettere in campo perché si arrivi a questo risultato. Lì bisogna uscire da una situazione di impasse che credo tocchi ciascuno di noi. Mi scuso sin da ora se mi dovrò assentare, abbiamo un'assemblea e quindi le risposte però credo che saranno comunque utili e interessanti per tutta la Commissione. Ringrazio Bergamini, il gruppo di Forza Italia ci aveva preannunciato un altro impegno contestuale quindi sono assolutamente giustificati, anzi ringrazio per essere rimasta a fare la domanda. Fidanza, Fratelli d'Italia. Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Inizio con un'annotazione perché lei in apertura del suo intervento ha sottolineato di voler investire tutte le risorse disponibili sulle infrastrutture digitali, non so se questo nasconda una idiosincrasia peraltro abbastanza chiara da parte del suo movimento sulle infrastrutture materiali in termini di trasporti, non so se intendeva anche questo, però me lo lasci sottolineare perché il nostro auspicio è che ci siano le risorse per le infrastrutture digitali naturalmente ma che ci siano anche quelle per le infrastrutture di trasporti che sono altrettanto vitali per la competitività del Paese. Detto questo con simpatia, allora io vorrei partire dal tema del 5G già richiamato dai colleghi. Noi qualche giorno fa abbiamo udito qui in commissione la Gcom e siamo stati un po' messi in allarme rispetto alle annotazioni tecniche che vi hanno segnalato e di cui lei ha fatto cenno. Probabilmente mi viene da dire che ci sia stata un'accelerazione forse un po' inopportuna, si poteva aspettare magari qualche settimana e fare tesoro di queste considerazioni acquisendole preventivamente prima di bandire la gara. Adesso lei giustamente dice che dobbiamo fare un tavolo tecnico per cercare di evitare che ci sia una ricaduta negativa di quelle osservazioni sulla gara diciamo che probabilmente sarebbe stato più opportuno attendere qualche settimana, acquisire queste osservazioni e fare una gara diciamo inoppugnabile e che non ci lasciasse con un'alea di rischio che comunque c'è a prescindere dai tavoli tecnici che non sempre, come giustamente veniva richiamato, portano i risultati attesi. Lei ha anche parlato degli obiettivi di copertura della banda ultralarga che sono obiettivi naturalmente che risiedono anche in impegni di agende europee quindi sono naturalmente obiettivi condivisi e condivisibili. La situazione attuale, come lei probabilmente sa, è di una Italia a 2, 3, 4 velocità. Ci sono intere zone del nostro paese, aree rurali, aree di montagna in cui di fatto noi assistiamo ad una discriminazione di cittadini che sono altrettanto italiani quanto quelli delle grandi città e che di fatto hanno un accesso limitato in qualche caso addirittura inesistente ai collegamenti digitali. Quindi le chiediamo una particolare attenzione su questo aspetto affinché anche i processi evolutivi delle nuove tecnologie tengano conto la necessità di non lasciare indietro territori interi minando la competitività delle imprese oltre che aggravando di ulteriori costi e disagi le famiglie che lì abitano. Vorrei associarmi alla richiesta della collega Bergamini sul tema della rete di telefonia mobile per capire meglio quali siano le intenzioni da parte del governo sul tema della separazione della rete sul tema della proprietà della rete abbiamo un modello in corso, quello di Open Fiber sul tema della fibra non capire se c'è un'idea simile anche sul tema della rete di telefonia abbiamo colto con favore l'attenzione dichiarata al sistema delle televisioni e delle radio locali che sono un patrimonio importante per il pluralismo dell'informazione in questa nazione bene la pubblicazione del bando abbiamo nel recente passato anche ascoltato dichiarazioni contraddittorie rispetto alla sua da parte di esponenti del suo stesso partito per cui ci terremmo che la linea prevalente fosse la sua cioè quella di un costante sostegno di una costante attenzione a questo importante patrimonio mi riferisco al sottosegretario Crimi che non ha fatto mistero di non amare particolarmente questo che noi invece consideriamo un patrimonio quindi ci auguriamo che invece la linea continui ad essere quella che lei ha annunciato e in ultimo non so se tolgo una domanda al Presidente perché l'ha fatto l'altro giorno in audizione con Agicom in tal caso me ne scuso Presidente sul tema della telefonia e delle nuove compagnie che si stanno inserendo sul mercato in particolar modo di Iliad è un tema che riguarda diciamo la parità di accesso e di regole siamo di fronte ad una sorta di aggiramento dell'allora decreto pisano sulle norme di sicurezza e quindi delle due l'una o ripristiniamo e facciamo in modo che non venga aggirato quella previsione di legge che quindi valga anche per i nuovi operatori oppure si mettano le altre compagnie nelle stesse condizioni io tendenzialmente preferirei la prima perché non è tempo di lasciare troppo spazio alle insicurezze però credo che ci debba essere un intervento di riequilibrio da parte del Governo grazie grazie fidanza Giacomelli Sì sono le telecomunicazioni tutto è tutto fatto a posto esatto esatto vede tecnologia fuori è molto più avanzata di quella dentro alla Camera grazie Presidente sì Ministro devo dire con franchezza che ho apprezzato l'approccio non so se la parola si può dire ma è un approccio di continuità con le linee fondamentali della politica fin qui seguita sul digitale lo dico non tanto per soddisfazione personale o di schieramento quanto perché ho detto altre volte su alcune scelte fondamentali io non credo al mutare delle politiche con il cambiare delle maggioranze nessun paese può sopravvivere con un approccio di questo tipo quindi anche noi e soprattutto noi per difficoltà che ereditiamo da decenni abbiamo bisogno di definire linee strategiche che appartengono al sistema paese dunque non siano sottoposte all'oscillazione fermo restando evidentemente il fatto che ciascuno nel momento in cui esercita una responsabilità aggiunge una caratterizzazione o un di più divisione che rende il tema percepibile lei ha parlato di molte cose su molte ci sarà l'occasione nello specifico e nel dettaglio magari di tornare e confrontarsi io condivido l'esigenza di passare alla fase 2 sul piano bull sulla banda oltralarga è vero che c'è uno degli obiettivi dell'agenda 2020 che è l'effettiva connessione di una parte significativa della popolazione alla rete innovativa da questo punto di vista lo strumento dei voucher che va definito e questo è uno strumento di politica industriale importante può aiutare le risorse ci sono il dialogo con la commissione su questo è aperto e questo può definire il punto aperto sulle aree grigie è definire sulle infrastrutture la scelta del modello di intervento noi abbiamo escluso fin dall'inizio ma naturalmente la pagina è nuova e tutto può essere ridefinito l'idea del contributo a fondo perduto è una delle cose che abbiamo trovato e di cui e che abbiamo da subito abbandonato le possibilità sono tra l'intervento diretto e pubblico che però se è facile se è auspicabile nell'area bianca e nell'area grigia già presenta più complessità perché interviene sulle infrastrutture esistenti o la partnership pubblico privata quindi definire rapidamente questa scelta da parte del governo definire la modalità regolamento per i voucher per aiutare incrementare la connettività da parte di famiglie e imprese a mio avviso può aiutare per le imprese c'è una particolarità aggiuntiva che mentre per una famiglia certo può essere significativo il contributo di 70 euro per la connessione per l'impresa il tema non è tanto questo aspetto quanto la possibilità di misure incentivanti che tengano insieme sia le misure di industria 4.0 e dunque le iniziative che riguardano la fase produttiva che il sostegno per esempio per il cavlaggio interno per esempio per collegamenti e per servizi condivido l'accento sul catastro delle infrastrutture e condivido anche un dato oggettivo sarebbe difficile negarlo il ritardo con cui in particolare le pubbliche amministrazioni concorrono a dare gli elementi e i dati io penso che questo sia un obiettivo importante quello del catastro delle infrastrutture perché eviterà una volta che sarà a regime e completo eviterà di disperdere risorse in nuovi interventi e farà guadagnare tempo occasioni e possibilità agli interventi infrastrutturali forse lo dico anche a proposito del sistema della web assessibility di cui abbiamo parlato più che un sistema sanzionatorio immaginare con le amministrazioni pubbliche una qualche forma di sistema incentivante potrebbe aiutare a superare questa è una difficoltà oggettiva bene ho detto anche pubblicamente l'annuncio della gara rapida sulle 5G le frequenze questo dà certezza agli operatori ed è un punto decisivo per mantenere quell'attimo di vantaggio che abbiamo rispetto agli altri paesi europei come ha ricordato il ministro viaggiano sull'obiettivo di una città entro il 2020 in 5G io penso che questo potrebbe essere anche lo strumento l'occasione il momento per provare a risolvere o ad affrontare meglio questa questione della duplicazione di infrastrutture a cui anche la collega Bergamini e il collega di Fratelli d'Italia facevano riferimento in altri termini sul 5G cambia anche il modello di costruzione di infrastrutture perché si passa da grandi ripetitori a quelle che si chiamano small cell piccoli impianti molto diffusi io penso che su questo non sia facile immaginare che ciascun soggetto ciascun operatore realizza una propria rete di infrastrutture che si insediano forse far cominciare i diversi soggetti pubblici e privati a ragionare su questo fatto innovativo può aiutare a affrontare con più serenità il progresso posto che a mio avviso sul passato la vicenda è netta il modello wholesale di Open Fiber è il modello innovativo rispetto a quello che non solo tecnologicamente per il rame ma anche a quello che abbiamo visto il nuovo codice di comunicazione europea recepisce e favorisce esattamente questo modello facendo un chiaro riferimento e un chiaro apprezzamento alla scelta italiana su questo segnalo anche ministro ma temo la difficoltà sarà più con un suo collega di governo la questione di armonizzare i limiti delle emissioni elettromagnetiche tema che è annosissimo e su cui non siamo mai riusciti ad arrivare a una conclusione l'obiettivo è semplice dal mio punto di vista ovviamente non è stravolgente se esiste questo dà anche certezza di parità di condizioni di concorrenza alle imprese e agli operatori se esiste una dimensione europea io credo i paesi debbano attestarsi su una dimensione europea riconosciuta se quella è ritenuta inadeguata allora discutiamo come si cambia ma immaginare che vi siano condizioni molto diverse tra i paesi europei crea problemi anche di concorrenza per gli operatori vorrei domandarle se non ritiene che sia possibile recuperare nella gara in parte lo spirito e l'obiettivo della sperimentazione cioè noi con la sperimentazione cosa abbiamo fatto abbiamo concesso gratuitamente delle frequenze a condizione che gli operatori coinvolgessero università start up aziende e istituzioni italiane nella creazione dei servizi perché questo alla fine è il vero obiettivo il non essere un mercato attraversato a servizi di altri sarebbe bello che oltre alla valutazione economica che inevitabilmente deve essere principale e preponderante fosse anche la possibilità di recuperare una valutazione di questo aspetto che guarda esattamente a dare un protagonismo alle aziende italiane nei servizi capisco e diciamo immagino quali possono essere le reazioni del MEF e quindi non insisto molto su questa valutazione ma mi limito a porlo perché in termini di politica industriale aiuterebbe a dare una continuità importante recuperando un aspetto su cui forse avremmo voluto fare di più ma che oggi possiamo recuperare cioè una condizione di contesto di favore per il venture capital per le start up che ci aiuti a reggere la concorrenza rispetto a altri paesi europei bene finisco l'indicazione intelligenza artificiale e big data questa è la sfida del futuro l'intelligenza artificiale pone però problemi molto complessi non solo di tipo tecnologico di armonizzazione di parametri di scelta dei dati da inserire per creare i parametri dell'intelligenza artificiale perché la gestione dà risposte diverse in base alla qualità e alla quantità di dati che si immettono ma pone anche problemi di tipo etico non tanto perché c'è chi sostiene che la tecnologia toglie posti di lavoro questo è un tema che dalla rivoluzione industriale si è posto ma in realtà è un problema che non è così ma è evidente che delegare a un meccanismo a un algoritmo a un meccanismo artificiale scelte che hanno implicazioni anche di carattere etico necessita della definizione di parametri non solo tecnologici ci sono soggetti Google si è posto un problema ha parato un proprio codice etico che ha fatto conoscere è un tema che interessa tutti i paesi europei forse visto che la Camera si è resa protagonista con la presidenza Boldrini e l'iniziativa che è stata ricordata dal professor Rodotà di una riflessione sul tema dei diritti della persona e della rete forse un'analoga iniziativa che ponesse il tema dell'aspetto etico dell'applicazione dell'intelligenza artificiale non con l'ambizione di determinare tutte le risposte ma di avviare una riflessione che possa intrecciare anche quella di altri paesi europei io credo potrebbe aiutare così come sui big data può essere un ragionamento quello degli open data della pubblica amministrazione lei ha ragione noi diciamo sono solo i primi passi quindi c'è tutto un lavoro che giustamente questo governo può fare intestarsi sulla rete federata wifi questo diventa uno strumento per una gestione rispetto ai flussi turistici straordinaria e offre la possibilità di una lettura autonoma da parte del sistema paese rispetto a quella che avviene attraverso degli over the top piuttosto che altri soggetti qui il problema è duplice da un lato quello di spingere le amministrazioni a federarsi l'hanno già fatto realtà importanti Roma, Milano, Firenze e molte altre realtà io credo che anche qui un'accelerazione si possa fare ma poi costringere l'amministrazione ad aprire i dati questo sarà la sfida di tutte le sfide che diventa no ma è la verità perché c'è una condivisione generalizzata che inevitabilmente fa fatica a trovare la precipitazione ma questo può essere un punto importante l'ultima notazione invece è sulle tv locali noi abbiamo variato nella scorsa legislatura un nuovo regolamento valutiamone anche l'applicazione gli obiettivi erano di scremare le domande per i contributi delle tv locali erano oltre 600 più che il pluralismo riguardava un'anarchia oggi nella prima applicazione vedo sul sito del ministero le domande sono 160 il che indica perché i criteri sono molto più rigorosi e questo significa che abbiamo forse individuato esattamente chi svolge attività editoriale e non chi usa magari delle lacune della legge per inserirsi qui il tema è duplice uno verificare anche nei prossimi mesi ci saranno i contributi del 2017 e del 2018 come è stato ricardato verificare esattamente se per esempio le misure sull'occupazione rimangono stabili oppure se ci sono tentativi di escamotaggio gli obiettivi sono duplici uno rendere stabile il fondo noi per il primo triennio abbiamo utilizzato il cosiddetto estragettito del canone Rai invenzione giuridica del MEF perché estragettiti non ne esistono c'è il gettito o l'evasione ma lasciamo stare è finito anche questo meccanismo tecnico occorre dare perché come chiediamo all'emittente privata al soggetto privato di svolgere un'attività di programmazione io credo che altrettanta certezza dovrebbe darla il pubblico quindi provare a capire attraverso quali meccanismi vi approcciate alla finanziaria possiamo dare stabilità due dare certezza sul regolamento c'è stato un tentativo di attraverso un emendamento al decreto ora in discussione alla Camera al decreto di cui lei è protagonista è apprezzabile il tentativo probabilmente l'attinenza per materia era un pochino però troviamo lo strumento perché dare certezze di regole e di stabilità aiuta la trasformazione di un settore che vive una fase di grande difficoltà ma che invece può dare grandi risposte sia per la trasformazione che può fare sia per i posti di lavoro sul RAI credo sia opportuno attendere prima le scelte per dare un giudizio più compiuto capisco il ruolo che lei le affida per la digitalizzazione RAI Play è stato un primo timido inizio si può fare molto io credo dalle scelte dei prossimi giorni noi valuteremo quanto questo risulterà plausibile naturalmente per un ragionamento più specifico sul dettaglio delle diverse cose anche sulla diversità di impostazioni ci saranno io credo sia in commissione che in aula altre occasioni grazie grazie Giacomelli rapidamente poi almeno chiudiamo il giro e facciamo un nuovo giro di domande se ok tema 5G condivido perfettamente noi dobbiamo pensare in generale a un nuovo sviluppo del nostro paese ma soprattutto del futuro un futuro che a prescindere dalla volontà di Morelli Di Maio Giacomelli o chiunque sia presente in questa in questa in questa aula avverrà e dunque per questa ragione è assolutamente ragionevole guardare come governare al meglio quello che è un futuro che insomma non possiamo bloccare la marea con una mano quindi per questa ragione e non vogliamo assolutamente bloccarla quindi per questa ragione va fatto un pensiero sul fatto che sia fuori intanto dagli interessi degli operatori privati ma fuori anche dagli interessi pubblici probabilmente ipotizzare la creazione di varie infrastrutture diverse rispetto appunto ai vari interlocutori che andranno a realizzare questa che è la prossima innovazione alla quale ci approcciamo dunque ragionare direttamente con le aziende interessate e con le amministrazioni pubbliche secondo noi è assolutamente una cosa da fare il tema dell'infrastruttura è un tema sul quale noi non possiamo volgere lo sguardo dall'altra parte parliamo del 5G ma parliamo anche di infrastrutture fisiche oggi attuali ci sono dei privati che stanno logicamente facendo i loro piani industriali stanno facendo delle acquisizioni dal nostro punto di vista è molto importante che le infrastrutture in quanto strumenti di divulgazione sia delle telecomunicazioni che in generale le ha citate anche di altri interessi riguardo sicurezza e difesa debbano avere una forte matrice pubblica quindi i privati facciano i privati nei loro ragionevoli interessi e noi anzi non abbiamo alcuna ragione di mettere nei bastoni tra le ruote né di avvantaggiare nessuno facciano i loro interessi le infrastrutture pubbliche però devono rimanere tale quando diventano fondamentali sia dal punto di vista delle telecomunicazioni che è quindi inutile che aggiungiamo altro che della difesa e della sicurezza per evitare che ci sia un monopolio o un'eccessiva presenza di privati rispetto a questo argomento per quanto riguarda i codici etici io rimango piuttosto colpito del fatto che il codice etico e giustamente questo è il dato semplicemente riportato venga espresso da dei privati cioè noi dobbiamo sottostare a dei codici etici che sono di privati è stata citata Google sappiamo come funziona con Facebook e d'altro su questo sarebbe interessante fare degli approfondimenti rispetto a quelli che sono le nostre possibilità certo la libertà del privato non va assolutamente limitata però attenzione perché appunto c'è un interesse pubblico generale sempre sul tema per tornare al tema del 5G quindi della della gara Ministro noi sappiamo che entro il 2022 per chi ha una scatola di plastica definita televisore di vecchia generazione sarà necessario l'acquisto di un nuovo decoder o comunque di un nuovo strumento che possa permettere la ricezione siccome sappiamo perfettamente che cosa è avvenuto l'abbiamo vissuto nello switch off e quindi la transizione da un sistema all'altro analogico a digitale oggi siamo non è esattamente la stessa cosa però insomma al signor Mario Rossi alla signora Maria poco interessa sarebbe necessario lo abbiamo già esplicitato qui in commissione più di una volta arrivare a quel a quel momento con una ragionevole campagna che spieghi che cosa sta per avvenire posto che il direttore presidente della Gcom ci ha spiegato che se dal punto di vista normativa è obbligatorio alla vendita anzi è obbligatorio che i nuovi strumenti televisivi abbiano siano adeguati alla nuova tecnologia non è detto che i magazzini siano pieni di televisori con la nuova tecnologia quindi su questo poniamoci un punto di domanda perché insomma immagino che tornando al signor Mario Rossi si arrabbierebbe parecchio se sapesse che compra oggi un televisore fra eh sì è probabile televisioni locali la ringrazio per insomma aver esplicitato una posizione che a questo punto assume la posizione di governo nel totale rispetto e valorizzazione delle emittenti e degli editori locali sui quali come sa insomma noi siamo sempre stati assolutamente sensibili per quanto riguarda anche una semplice ragione il servizio pubblico che svolgono sui loro territori che a volte il servizio pubblico nazionale di stato a volte non effetto in maniera in maniera continua certo è che dal punto di vista delle aggregazioni e delle innovazioni probabilmente devono loro anche gli editori locali devono essere accompagnati e quindi un discorso che potrebbe coinvolgere sia la RAI perché è anche compito anche compito secondo noi della televisione pubblica riuscire a fare in modo che tutti gli interlocutori che hanno poi la possibilità di dare dei contenuti ai nostri cittadini siano realmente aggiornati rispetto alle grandi novità in essere dunque per questa ragione la RAI dovrebbe fare da capofila rispetto alle novità i privati le grandi aziende private fanno la loro strada è assolutamente ragionevole e giusto secondo noi per sostenere le piccole testate locali la RAI potrebbe avere un ruolo molto importante e il suo ministero e i suoi colleghi possono avere un ruolo altrettanto importante per adeguare anche la formazione dei giovani che oggi sono all'università e che domani ci auguriamo possano essere un valore aggiunto proprio nelle aziende magari nelle aziende di territorio siano adeguatamente formati per non solo ragionare di perché poi avviene questo nelle università e lo sappiamo si ragiona di facebook google e le grandi testate giornalistiche nazionali televisive non solo però poi ci si dimentica un po' delle piccole realtà ecco magari rimettere ricentrare un po' gli interessi di tutti citavo la televisione pubblica ma anche di coloro i quali hanno il compito di formare quei giovani sarebbe secondo noi cosa buona e giusta quindi le lascio la parola grazie grazie presidente è un piacere potervi rispondere e aver modo di dibattere anche su temi che secondo me magari non coinvolgono il mainstream ma sono il nostro futuro da tutti i punti di vista mi sento molto fortunato a poter avere la delega alle telecomunicazioni allo stesso tempo essere ministro dello sviluppo economico e del lavoro perché questi tre settori si stanno intersecando in maniera forte io vorrei partire dalle suggestioni del presidente per poi rispondere anche a tutte le altre questioni siamo d'accordissimo che l'utilizzo del 5G come di qualunque altro tipo di tecnologia che promuoveremo nei prossimi anni debba essere a metra strada tra l'interesse pubblico e l'interesse privato ma non deve essere di interesse pubblico e di interesse privato nel senso che io ho avuto modo di vedere un po' le sperimentazioni che stiamo facendo in alcune città d'Italia per esempio quella a Matera e sul 5G girerà una rivoluzione dei servizi pubblici io anche per questo ho detto chiaramente che secondo me il settore pubblico può essere un traino nella digitalizzazione del paese non perché si volesse penalizzare quello privato anzi se noi riusciamo a stimolare dei mercati il privato da solo è in grado poi di introdursi in quel mercato ma se non creiamo mercato il privato resta al palo soprattutto sulla sanità la sanità di prossimità quella dove il letto d'ospedale diventa il letto di casa nostra da cui possiamo monitorare il paziente vedere tutte le sue condizioni è permesso e ci sarà permesso grazie a tecnologie come il 5G e allo stesso tempo vale per tanti altri strumenti che oggi non hanno abbastanza banda per assicurare una certezza di trasmissione dei dati che servono penso a tutto il tema delle manutenzioni e della sicurezza sul lavoro un altro tema importantissimo dove per esempio una grande azienda italiana Isotta Fraschini sta sviluppando i visori per le manutenzioni che permettono all'operatore di essere molto più in sicurezza sia sui motori sia su altre tecnologie che loro sviluppano quindi queste tecnologie non saranno soltanto il modo per digitalizzare l'esistente queste tecnologie rivoluzioneranno l'esistente ce lo dobbiamo mettere in testa e vale ancora di più per la pubblica amministrazione è una prerogativa del Ministro Buongiorno per carità però prima di digitalizzarla la pubblica amministrazione dobbiamo capire quali sono le funzioni che ci servono ancora altrimenti rischiamo di digitalizzare qualcosa che non ci serve ed è il peggior modo per fare le digitalizzazioni mi allaccio a quello che diceva lei sulle infrastrutture Presidente per rispondere anche alla domanda fatta da più parti sulla rete TIM e quindi tutto il tema delle infrastrutture strategiche il tema è proprio questo prima di tutto scorporo della rete mi è capitato di sentirlo anche al tavolo della trattativa TIM in cui i sindacati mi dicevano ma voi avete intenzione di lavorare sullo scorporo della rete perché è visto anche dal privato e addirittura dai dipendenti di quel privato come un'occasione di ristrutturazione economica di salvataggio del personale di stabilizzazione del personale di rilancio dei livelli occupazionali va benissimo però faremo un buon lavoro se affronteremo questo tema da un punto di vista di strategicità di quelle infrastrutture e di sovranità di un paese se invece ci mettiamo in testa come Stato di fare un'operazione economica secondo me andiamo fuori strada quindi mettiamo al centro in questa operazione la sovranità e la strategicità di quello che c'è ma allo stesso tempo noi guardiamo al modello open fiber quindi è stato citato prima e io guardo a quel modello ma deve essere chiaro che per lo scorporo della rete noi dobbiamo capire che cosa si intende perché non è che ci stanno dando i cavi in rame che stanno sotto terra stiamo parlando di un asset aziendale quindi quello che noi abbiamo fatto già in questi primi giorni di governo è stato avviare una una indagine su tutto indagine sembra negativa nel senso un approfondimento su tutto questo tema per cercare di capire che cosa intendano loro che cosa intendiamo noi intendevamo noi come stato e su questo vi do la parola mia e del governo che il nostro obiettivo è affrontare questo dossier per garantire la sicurezza nazionale e la sovranità del nostro paese c'è un altro tema che è quello delle tv locali che è tornato che torna spesso prima di tutto non c'è nessun pregiudizio verso le tv locali questo deve essere importante non c'è nessuna volontà punitiva nei confronti delle tv locali ma ci sono tv locali che danno come si dice in gergo in gergo di corse una pista alle tv nazionali e sono bravissime e fanno veramente informazione e poi ce ne sono alcune che esistono solo per prendere in passato esistevano solo per prendere i soldi e il riordino di questo significa garantire quelle che fanno tv davvero e quelle che soprattutto come diceva il presidente fanno anche un servizio pubblico a volte più del servizio pubblico stesso ed è nostra intenzione premiare quelle tv locali che svolgono vorranno svolgere una funzione di servizio pubblico in un'ottica ovviamente che questo è un mondo che se vale per la RAI e vale per i competitor nazionali generalisti della RAI immaginiamo che cosa stia accadendo a livello locale per le tv per quanto riguarda la rivoluzione la quarta rivoluzione industriale e le nuove tecnologie l'obiettivo di questi fondi la nostra ambizione è che possano stimolare sempre di più la digitalizzazione l'aggregazione e anche una cosa che deve essere chiara che è quella di settorializzarsi su determinati contenuti e argomenti perché la tv generalista lo dicono tutti i trend nazionali e tutti i trend internazionali sta cedendo il passo a quella invece che fa contenuti specifici e orientati su determinati argomenti poi c'è l'altra cosa che dicevo in premessa sulle tv è che oggi il telespettatore medio è quello che il palinsesto se lo vuole fare da solo non lo vuole lasciare fare al direttore di rete ed è per questo che i livelli di penetrazione di Netflix e Prime sono impressionanti nella nostra economia e c'è un altro tema perciò citavo il ministero del lavoro che oggi Netflix in Italia credo che abbia quattro dipendenti quindi stiamo affrontando una rivoluzione che come diceva chi è intervenuto non è che fa perdere posti di lavoro cioè li fa perdere se noi non siamo pronti ad affrontare questa sfida tecnologica e tutta un tratto subiamo lo shock perché l'abbiamo vissuto con tante altre tecnologie vale anche per il signor Rossi e la tv la nostra il nostro impianto legislativo con la dovuta attenzione perché c'è la libertà di mercato di concorrenze delle aziende che vendono i dispositivi che vendono le tv secondo me deve andare nella direzione di fornire alle famiglie un monitor non più la tv con dentro le tecnologie perché le tecnologie si evolvono così rapidamente che l'obiettivo deve essere poter cambiare la tecnologia applicata al monitor così abbassiamo le spese della famiglia e permettiamo tecnologie intercambiabili quanti dispositivi oggi in una famiglia media italiana sono attaccati alla tv molti servono anche per guardare i contenuti televisivi ora non voglio citare assolutamente aziende private però secondo me come giustamente ci faceva riflettere la Gcom e lei presidente noi questo tema lo dobbiamo affrontare una volta e per tutte cercando di rendere universale la tecnologia che si applica alle nuove che stanno arrivando anche perché è impressionante il livello di sviluppo di questo settore noi oggi stiamo sperimentando il 5G ma ricordo che qualche anno fa in Italia impazzava il Ymax se ne parlava dalla mattina alla sera che doveva essere la nuova tecnologia doveva sbancare in tutti questi settori qualcuno ha comprato anche le reti e credo non sia molto contento oggi di quelle frequenze Ymax perché da questo punto di vista le tecnologie si evolvono io dico per quanto riguarda i livelli di emissione che per una volta essere uno dei paesi più attenti non è che ci deve imbarazzare perché noi abbiamo dei livelli legislativi di emissione elettromagnetica di inquinamento elettromagnetico molto più alti quindi molto più rigidi di altri paesi europei cerchiamo di stimolare il dibattito europeo su questo nel cercare di anche loro tutelare di più la salute dei cittadini in una rivoluzione tecnologica che vede il 5G non più come un ripetitore con effetto ombrello mettiamola così ma è un ripetitore ripetitore che è quasi come se fosse un ripetitore che interviene sul singolo dispositivo lo mira e lo va a prendere questa tecnologia richiede l'applicazione di più dispositivi ora il grande dibattito è ne mettiamo di più o siamo più tolleranti sui livelli di emissione secondo me non è una religione nell'uno nell'altro ma dobbiamo tener presente che non è solo questo dispositivo cioè il dispositivo 5G si va a sommare a tanti altri dispositivi che abbiamo in casa abbiamo sui grandi tralicci e abbiamo sulle grandi torri che fanno telecomunicazione sono d'accordo sul tema che poneva la collega Bergamini su pubblico privato e start up e lo voglio approfondire ulteriormente il pubblico può essere il volano per aprire dei mercati ma dobbiamo stimolare lo sviluppo dei privati ci sono due tipi di sviluppo in questo settore uno digitalizzare l'esistente banalmente io vi dico da ministro lo sviluppo economico che le imprese si stanno preparando per esempio alla fatturazione elettronica che non è una cosa da poco soprattutto se non accompagnate soprattutto perché io quelle in buona fede lo vedo che stanno lavorando ad adeguarsi ma non vorrei che poi qualcuno piccolissima minoranza in mala fede dica noi non abbiamo le tecnologie una cosa è certa che è un ulteriore aggravio di costi che noi dobbiamo scorporare riducendo eliminando del tutto il cartaceo perché se esiste la fatturazione elettronica i registri cartacei non devono essere più obbligatori oggi non è previsto l'impegno che prendo invece è di prevedere che se si passa la fatturazione elettronica tutto quello che è cartaceo di omologo non si deve più applicare quantomeno non deve prevedere più sanzioni se non li compili detto questo noi abbiamo intenzione con vari fondi di poter intervenire e creare un fondo ad alta redditività per le start up innovative c'è un problema che non è solo italiano per il mondo start up soprattutto nel mondo delle telecomunicazioni che è l'alta mortalità lo conosciamo tutti se noi riusciamo anche su questo io credo molto nella funzione del pubblico creare un fondo ad alta redditività in cui i privati possono mettere fondi di investimento di venture capital per le start up e allo stesso tempo diamo delle mission specifiche alle start up e quindi non spariamo nel mucchio noi abbiamo la possibilità di sviluppare dei rami di tecnologie di innovazione che possono servire anche al pubblico e che possono interfacciarsi col pubblico quindi sarà molto importante l'impianto pubblico che daremo allo sviluppo tecnologico e allo stesso tempo dare quelle mission che ci servono al privato il modello è quello sì francese nel senso che in Francia hanno istituito un fondo in cui vanno a investire i nostri fondi le nostre casse di previdenza sociale e è un fondo che garantisce una redditività a chi mette fondi privati e che ci permette di finanziare le idee innovative dei start up innovative prima sono stato diciamo accusato pure io ho sempre tanta preoccupazione per i gruppi di lavoro quindi siamo d'accordo che nessuno qui vuole fare gruppi di lavoro per rimandare alle calende greche alcuni interventi però deve essere chiaro che il monitoraggio costante delle esigenze di questi settori è fondamentale perché si evolve di giorno in giorno io ho convocato un mese e mezzo fa il tavolo sui riders tra le applicazioni digitali e quindi le piattaforme digitali e i riders che consegnano i pasti a domicilio da un mese fa ad oggi sono già cambiate le esigenze dell'una e dell'altra parte perché il settore si evolve e la tecnologia è molto semplice da implementare quindi quando c'è un ostacolo la tecnologia lo aggira quindi i gruppi di lavoro che ho citato qui sono volti prima di tutto a tenere un costante collegamento con i settori interessati perché l'unica cosa che non voglio fare siamo tutti a rischio su questo è stanziare soldi per tecnologie obsolete o processi tecnologici obsoleti ed è anche per questo che non ci dobbiamo innamorare delle tecnologie noi dobbiamo classificare gli obiettivi politici che vogliamo raggiungere quelli sociali quelli economici quelli per le imprese e lasciare il giusto spazio ai privati per evolvere le loro tecnologie ovviamente su questo uno degli esempi su cui voglio dare anche un incoraggiamento a FCA che non sta vivendo un buon momento dal punto di vista del titolo in borsa c'è tutta la nostra volontà di approfondire il loro piano industriale per quanto riguarda la mobilità elettrica e per quanto riguarda un interessante progetto che ha lanciato il compianto Marchionne sull'auto senza guidatore con Google che rappresenta l'intelligenza artificiale io sono d'accordissimo sul fatto che l'intelligenza artificiale deve portare a degli interrogativi etici e l'etica la deve stabilire l'interesse statale lo Stato e su questo sia il Parlamento francese che il Parlamento inglese sono molto avanti sulla definizione dei codici etici sull'intelligenza artificiale facciamolo anche noi facciamolo il prima possibile tenendo presente che può essere un punto di partenza diciamo le suggestioni gli stimoli che ci dà il codice etico di Google ma è chiaro che c'è un tema base che riguarda tutto che sono gli algoritmi anche nel tema riders questi ragazzi venivano demanzionati o pagati di meno in base al ranking che gli veniva assegnato in base all'algoritmo della piattaforma digitale quindi io consegnavo le pizze a domicilio però se l'utente quello che riceveva la pizza metteva una stellina invece di quattro stelline il ranking era più basso e l'algoritmo per esempio mi faceva passare da contratto co-co-co a partita IVA o da partita IVA voucher oppure ancora peggio non mi chiamavano più però io non conosco l'algoritmo e l'implementazione dell'algoritmo quindi potrebbero anche avermi fregato come dipendente nel senso che magari non è vero che l'utente finale ha dato un punteggio basso a me magari l'algoritmo fa altri tipi di valutazione il tema della pubblicità degli algoritmi sarà un grande problema perché l'algoritmo è il segreto industriale che fa il core dell'azienda e allo stesso tempo noi chiediamo pubblicità all'algoritmo per dare le tutele ai dipendenti di quella industria produttiva dovremo affrontarlo ovviamente il vantaggio di stare indietro un po' rispetto agli altri che gli altri già hanno cominciato a sviluppare alcune iniziative come dei registri privati di Stato che consentano la classificazione degli algoritmi però allo stesso tempo noi dobbiamo lavorare a due obiettivi che sono sganciare gli algoritmi dalla retribuzione dei dipendenti e dalla progressione di carriera dei dipendenti e il diritto alla disconnessione che sarà l'altro grande problema noi magari ne sappiamo qualcosa perché lavoriamo sulle chat dalla mattina alla sera e questo è un problema per chi invece chi viene continuamente contattato per poter lavorare soprattutto in quei settori in cui si rischia anche la vita per strada utilizzando le biciclette voglio andare veloce Presidente perché non voglio rubare molto tempo la carenza di competenze digitali che citava la deputata Liuzzi ci porta ad utilizzare bene quei fondi che abbiamo ne parlava anche il collega Giacomelli la questione del cosiddetto voucher che speriamo non debba essere un bonus ma speriamo possa essere uno stimolo all'accesso a dei servizi digitali è il tema dei temi noi abbiamo delle risorse limitate seppur importanti circa un miliardo e tre e dobbiamo utilizzarle per non rendere inutile l'intervento economico e quindi regalare un po' di bonus in giro questo significa secondo me individuare delle categorie specifiche per quanto riguarda le famiglie e dei settori produttivi specifici per quanto riguarda l'impresa lo dovremo fare nell'ambito di quelle che sono già le regolamentazioni europee di questo strumento ma abbiamo questi soldi utilizziamoli per incidere positivamente sui settori produttivi e sull'accesso a internet delle famiglie è auspicabile aumentare la sperimentazione del 5G perché sta permettendo ad alcune città di conoscere dei nuovi servizi pubblici che possono servire al cittadino e a chi mi dice legittimamente bisognava aspettare un po' per firmare la gara 5G ho preferito siccome sono ben note quali sono le questioni e quindi si aspettava una decisione politica su questo il nostro intervento è stato quello di cominciare a mettere in moto la gara per rispettare le scadenze ma anche evitare che questa gara si fermi e quindi negli incontri che faremo nei prossimi giorni con i vari operatori di questo settore c'è tutta la volontà e la disponibilità di poter fare interventi regolatori e normativi preposto che quelli regolatori non li facciamo noi direttamente che possano evitare qualsiasi problema e quindi far andare la gara in porto il passaggio su trasporti fisici diciamoli analogici via di trasporto fisico e digitale io penso che siano strettamente interconnesse nel senso che qui non c'è un approccio ideologico del governo che dice togliamo i soldi alle autostrade e facciamo quelle digitali anche perché secondo me non ha molto senso in questo momento abbiamo tanti fondi dedicati a livello europeo che possiamo attrarre ma dovremo essere bravi ad attrarli soprattutto utilizzando cioè tenendo presente il titolo quinto della Costituzione e quindi tutta l'interlocuzione ci vuole tra gli enti però se oggi sempre di più tutti gli studi ci dicono che per effetto è la stampante 3D si stanno spostando i progetti e non più le merci noi questo lo dovremo tenere presente in un piano infrastrutturale nazionale e se sono stati progettate delle opere che neanche sono partite 30 anni fa e che individuavano un flusso merci che oggi cambia per effetto delle digitalizzazioni è inutile ostinarsi ideologicamente a voler realizzare per forza quella opera e questo non vuol dire che finanzieremo io quando dicevo tutte le risorse a disposizione significa tutte le risorse che riusciremo a mettere insieme per gli investimenti sul digitale però una riflessione la dobbiamo fare perché la digitalizzazione dei servizi e la digitalizzazione sempre di più dei processi industriali porterà anche ad un traffico merci mondiale totalmente diverso che influirà sui nostri porti sulle nostre ferrovie e sulle nostre strade autostrade e questo lo dobbiamo tenere ben presente è stato toccato il tema di Iliad noi abbiamo si è inviato io appena mi sono insediato al ministero una delle prime cose che ho firmato delle prescrizioni che abbiamo inviato ad Iliad perché devono adeguarsi alla norma e inoltre ho interessato il ministro Salvini col ministero dell'interno perché è una questione che come ben si ricordava viene dalla vecchia legge Pisano e che crea potrebbe creare anche dei problemi di concorrenza sleale banalmente c'è un distributore automatico di SIM questa SIM tu la ricevi se metti la tua carta d'identità lì la carta d'identità viene registrata ma la SIM viene attivata prima della registrazione a terminale della carta d'identità o del documento di riconoscimento in realtà sostanzialmente la compagnia sostiene che la dinamica sia un'altra che a quanto ho capito il documento di riconoscimento viene trasmesso in tempo reale alla registrazione e quindi per questo viene attivata subito noi abbiamo avviato tutte le prescrizioni del caso perché intuirete che il suo rischio di avere una SIM non registrata per utilizzi diciamo da parte di organizzazioni terroristiche organizzazioni criminali ci mette in serio pericolo per questo ho interessato subito anche il ministero dell'interno e stiamo procedendo su questa vicenda sull'intelligenza artificiale ho risposto per quanto riguarda invece tutto il tema anche delle testate locali non tv che diceva lei Presidente secondo me quelle possono avviare un grande processo adesso di rivoluzione anche della testata cartacea in quanto tale nel senso che ormai è in dubbio che anche dai flussi di lettori i lettori sono sempre più digitali delle testate che cartacei c'è tutta una parte però che guarda ancora al cartaceo noi dobbiamo stimolare questo processo di digitalizzazione però scremandone gli abusi nel senso che come sempre sia a livello nazionale che a livello locale ci sono diversi tipi di testate lo strumento di finanziamento pubblico è lo stimolo ad essere corretti e a eliminare gli abusi però deve essere uno strumento che mira a disintossicare poi la testata che sia tv o cartacea dall'utilizzo del finanziamento pubblico perché la dipendenza dal finanziamento pubblico della testata giornalistica poi negli anni ha creato anche delle distorsioni cioè che la testata invece di dare notizie indipendenti a volte poteva farsi tentare dall'idea di dare notizie favorevoli a chi gli finanziava con i soldi pubblici quella realtà e io sono molto preoccupato per questo perché negli anni questa cosa secondo me ha avuto dei riscontri evidenti poi per concludere volevo dire un'ultima cosa che è quella legata al al vostro lavoro nel senso che noi faremo un lavoro spero di commissione anche con la commissione del senato di lavoro di condivisione degli obiettivi ma allo stesso tempo è storicamente noto che i ministeri vanno ad una velocità e il Parlamento va ad un'altra velocità e non sempre riusciremo ad incontrarci quindi io spero periodicamente con i vostri capigruppo al di là dei lavori di commissione per cui sono sempre disponibile quando mi chiamerete di poterci coordinare sugli obiettivi che vogliamo portare avanti maggioranza e opposizione anche perché ci sono delle sfide che chi diceva mi fa piacere sia in continuità io credo che noi stiamo viaggiando su un'onda che non dipende da noi che è l'onda delle nuove tecnologie del processo tecnologico noi possiamo come dire addomesticare quest'onda cercando di regolare gli effetti sui cittadini e questo sarà molto importante dal punto di vista dell'impatto lavorativo dell'impatto sulla salute e sulle dinamiche sociali per evitare che aumentino le disparità perché le tecnologie se regolate bene ci permettono di diminuire le disparità sociali ma se non regolate bene c'è il rischio che possono aumentarle quindi piena e massima disponibilità a tutta la commissione a lavorare insieme anche fuori dal tempo e dalle dinamiche parlamentari grazie ministro cerchiamo di essere una commissione 5G ci proviamo almeno noi un giro un ultimo giro di domande rapidamente quindi Bruno Bossio io aggiungo poco anche perché condivido molte cose che sono state dette volevo solo dire al ministro che è un uomo fortunato perché nonostante i ritardi nel digitale che ci sono stati storicamente in Italia in questi 5 anni sono state fatte delle iniziative appunto dal piano strategico di crescita digitale alla banda ultralarga al catastro dell'infrastruttura industria 4.0 che comunque hanno portato dei risultati e io francamente quello che ha sottolineato l'altro giorno l'Agicom cioè che l'Italia sulla banda ultralarga almeno dal punto di vista della connettività quindi dell'offerta è passata dal tredicesimo posto dal ventitresimo posto del 2016 al tredicesimo del 2017 è comunque un fatto positivo perché tra l'altro non dimentichiamo io non aggiungo niente di quello che è già stato detto sul 5G che il 5G ha bisogno di una banda ultralarga piuttosto diffusa anche per potersi diciamo realizzare compiutamente sicuramente il tema è l'offerta che sono gli altri indicatori d'essi e il lavoro che abbiamo fatto in questi anni anche attraverso l'intergruppo innovazione sono contenta diciamo della sottolineatura positiva noi ci siamo visti proprio ieri sera vogliamo continuarla a portare avanti però io mi chiedo con quali anche diciamo investimenti perché quelli che lei ha citato i finanziamenti della Unione Europea riguardano la nuova programmazione 2020-2027 quindi il miliardo e i 700 milioni il miliardo e i 300 milioni per la Pia sono a partire dal 2020 bisogna intervenire anche subito soprattutto sul tema delle competenze digitali e quindi visto che lei è anche ministro del lavoro come diciamo favorire una formazione sia nella pubblica amministrazione ma anche presso le imprese che va in questa direzione così come sulla questione dell'e-commerce è vero che il ruolo delle poste lo stiamo dicendo forse da 5 anni può diciamo avere un ruolo maggiore se si sviluppa il discorso e-commerce ma noi sappiamo e c'è stata diciamo anche una verifica attraverso il parere che abbiamo dato sul digital single market l'e-commerce in Italia ha costi più alti e diciamo invece un ruolo di poste potrebbe contribuire in questa direzione un'ultima cosa sono d'accordo sul discorso dell'intelligenza artificiale big data e riprendo la proposta che faceva l'onorevole Giacomelli di riprendere quella commissione Rodotà con questo nuovo spirito anche perché c'è un automatismo fra diciamo le piattaforme digitali gli over the top la pubblicità e le notizie che arrivano ai cittadini sostanzialmente senza nessuna filtro questo è un tema anche che riguarda l'informazione e invece per quel che riguarda la questione finisco della rete allora è vero che in questo momento non c'è nessuno scorporo ma c'è semplicemente una decisione aziendale di separazione sostanzialmente a livello aziendale di rami d'azienda il progetto appunto su una possibilità di una rete unica nazionale come può avvenire naturalmente nel rispetto diciamo del fatto che l'investimento deve andare verso la fibra e non diciamo verso presenze miste diciamo come attualmente sapendo però che anche la presenza mista cioè di fibre e rame oggi come oggi consente di dire che in Italia c'è un livello di banda ultralarga che comunque diciamo ci fa raggiungere dei risultati che se no altrimenti non avremmo raggiunto grazie qualcun altro intende intervenire prego grazie presidente grazie presidente buon pomeriggio ministro grazie per la sua disponibilità come al solito e anche per la chiarezza insomma ci ha fatto decisamente viaggiare con l'immaginazione anche io sono contento del fatto che lei ha citato l'intergruppo sull'innovazione perché pensiamo che possa essere anche un percorso interessante lo è stato e lo sarà sono convinto io da tutta questa diciamo descrizione con il collega finanza stavamo ragionando adesso nell'impostare un algoritmo che potesse mettere le stelline ai ministri ma anche ai parlamentari per fare in modo che poi dopo ci sia un riferimento un riconoscimento premiale o meno questo bisogna vederlo però ne stavamo ragionando poco fa però vuole parlare di poste perché mi sembra insomma che poi nell'intervento che lei ha fatto ma anche negli altri interventi purtroppo non è che abbiamo approfondito molto questo aspetto io ritorno all'otto febbraio di quest'anno c'è questo famoso accordo firmato da poste sottoscritto da tutti i sindacati l'ennesima ristrutturazione diciamo di poste nelle quali orientativamente si applicano dei tagli o delle riorganizzazioni riorganizzazioni che poi sono sempre le stesse fondamentalmente si pensa di riorganizzare la consegna di quelle che sono le lettere in questo caso a giorni alterni quindi adesso mi dispiace che dal 5G Wi-Fi Wi-Max adesso arriviamo ai sportelli postali ma questa commissione ha anche questo e vuol dire anche tanto prima parlavamo del gap per quanto riguarda le zone di montagna o quant'altro per le trasmissioni figuriamoci per quanto riguarda questi servizi Ministro a me risulta non so se è sbagliato questo calcolo che in questo caso questo accordo che appunto risale all'8 marzo si parla quasi del più grande taglio mai visto all'interno di poste italiane la riorganizzazione di quelle che sono le aree di distribuzione e dei flussi provocherà orientativamente un taglio di circa 4.300 portalettere con tutto quello che il portalettere diciamo anche rappresentava dal punto di vista di come posso dire funzione sociale dello stesso insomma e sappiamo perfettamente a che cosa ci riferiamo questo porterà inevitabilmente sta già portando in alcune aree del paese delle difficoltà considerando che anche se poste si ponono in una condizione di diminuzione di flussi così poi non è perché proprio quei mercati di cui lei parlava prima durante il suo intervento anche qui non vorrei citare alcuni diciamo gruppi internazionali particolarmente forti ma stanno facendo aumentare la consegna dei pacchi in maniera particolare e credo che poste abbia anche vinto ultimamente una gara invece quella con Equitalia per la consegna non vorrei sbagliarmi delle cartelle che prima passavano almeno quasi esclusivamente almeno una parte per i messi notificatori delle amministrazioni delle amministrazioni locali insomma quindi è un flusso di materiale pacchi che non sembra così diminuire e invece potrebbe addirittura aumentare con un taglio netto invece per quanto riguarda le poste mi rendo conto che molto probabilmente non è così aulico e così di sfida rispetto a altre situazioni di cui lei ha parlato in maniera approfondita però per quanto ci riguarda è decisamente un asset interessante e importante e pensiamo che debba essere messo sotto la giunta giusta lente diciamo di attenzione e credo che vada anche nella direzione di quello che ci ha raccontato lei per quanto riguarda anche altri asset strategici del paese e ci ricordiamo anche l'intervento che ha fatto quando ci ha informato delle se non mi sbaglio 140 situazioni che ha trovato al ministero del lavoro vertenze aperte mi sembra quando ha detto questo nome in aula ci sono tremati un po' tutti le vene perché 140 vertenze non se le immaginava forse nessuno almeno noi e rispetto a questo le dico non vorrei che anche poste sia all'interno di queste soprattutto perché sembra che ormai si guardi esclusivamente al valore dell'azione e non a quello che è invece il valore stesso del servizio grazie Maccanti poi chiudiamo che noi condividiamo sia coinvolta nei più importanti dossier il tema 5G lo seguiamo con attenzione credo l'abbia espresso il presidente Morelli vorremmo appunto proprio per le ripercussioni che il 5G avrà positive ovviamente anche nei confronti di tutti i cittadini vorremmo insomma che la commissione potesse insieme a lei guidare questo percorso quindi le chiediamo innanzitutto di essere tempestivamente informati sui tavoli che vorrà aprire sappiamo e sono state rappresentate anche a noi le criticità che ci sono sul bando mi sembra che lei abbia espresso una importante disponibilità proprio ad aprire dei tavoli e a voler risolvere nelle modalità evidentemente che sono possibili e che lei vorrà individuare insieme con l'autorità queste criticità le chiediamo ovviamente che la commissione sia da questo punto di vista coinvolta esattamente come lei ha intenzione di fare per quanto riguarda i tavoli di crisi e un altro argomento ma noi abbiamo particolarmente apprezzato la volontà di condividere insieme con i parlamentari segnatamente i parlamentari del territorio le problematiche che sta affrontando per quanto riguarda i tavoli di crisi e le chiediamo le stesse modalità per quanto riguarda ovviamente i temi importanti che stiamo affrontando anch'io come hanno fatto i colleghi davvero vorrei chiedere la sua attenzione sulle aree rurali e montane del nostro paese arrivo da una regione che è il Piemonte dove 800.000 cittadini sono totalmente esclusi dalla possibilità di ricevere internet io le chiedo davvero e la Lega le chiede per l'attenzione che abbiamo sempre avuto per i nostri territori davvero di focalizzare e di poter garantire l'accesso a tutti i cittadini soprattutto per quel che riguarda la banda larga nella mia regione ma credo in tutte le regioni diciamo montane un'ultima raccomandazione sui voucher se me lo consente ho apprezzato particolarmente il fatto che non vogliano essere proprio completamente generali rischiamo come lei ha detto un intervento a pioggia che probabilmente non sarà utile a nessuno quindi ho particolarmente apprezzato l'idea di voler individuare categorie particolari e chiaramente le chiedo una particolare attenzione per le piccole e medie imprese per quello che è stato già detto anche per quanto riguarda la riorganizzazione delle poste da piemontese è ovviamente un tema che ci riguarda particolarmente perché l'ufficio postale nei piccoli territori e nei piccoli comuni lei sa bene l'importanza che possa avere anche per categorie che purtroppo non sono ancora digitalizzate penso ai nostri anziani e anche per quanto riguarda il piano di riorganizzazione di poste noi gli abbiamo chiesto e credo che sarà calendarizzata presto l'audizione con poste ma le chiedo una particolare attenzione e un particolare coinvolgimento ovviamente anche dei parlamentari intanto la ringrazio davvero perché tra i mille impegni davvero ha voluto dedicare alla nostra commissione e non in congiunta con il senato diciamo insomma un'attenzione che noi abbiamo particolarmente apprezzato e le chiedo ovviamente di voler continuare su questa strada grazie grazie prego ministro se vuole dare le risposte allora cercherò di dare una risposta puntuale un po' a tutto quello che ci siamo detti fino ad ora partendo da poste allora come ho detto all'inizio si è aperto questo mercato lo si è aperto ad altri operatori quindi è un momento in cui poste si ritrova su tanti settori ad affrontare una forte concorrenza da una parte per i prodotti che ha sempre ha sempre gestito non dico in totale monopolio ma quasi inoltre deve affrontare l'altra sfida che è quella tecnologica abbiamo parlato dell'e-commerce che è una sfida che ci consente se opportunamente attrezzata di poter utilizzare poste per riuscire anche a evitare che sia quello dell'e-commerce un mercato selvaggio di consegne noi abbiamo un grande problema che è quello del delivery e di tutto quello che sta succedendo al Ministero dello Sviluppo Economico c'è un tavolo sulla logistica che nasce dall'esigenza di fermare le false cooperative della logistica che stanno sostanzialmente abusando dei lavoratori non possiamo neanche chiamarli lavoratori molto spesso stranieri e stanno causando un downgrade di tutta la qualità e degli standard di qualità del settore delle consegne penso all'avvertenza FedEx che stiamo affrontando che abbiamo affrontato si è chiusa in un modo non eccessivamente soddisfacente per coloro che ci lavorano ma ci siamo resi conto quando abbiamo approfondito quel dossier che la FedEx che si è sempre distinta per essere una di quelle che puntava sulla qualità e non sulla quantità ha dovuto riadeguare il suo modello di business a ribasso legato al fatto che il fondo lo stiamo grattando con delle modalità poco ortodosse che portano avanti alcuni operatori che riguarda proprio appunto il tema delle cooperative e la logistica ricorderete credo oltre un anno e mezzo fa quella persona che è stata investita ai cancelli perché portava avanti una protesta proprio su questo tema detto questo quindi da una parte Poste secondo noi dovrà migliorare la qualità del servizio facendo per esempio del vecchio portalettere una persona che non solo ti porta un prodotto ma ti porta un servizio da poter fare a casa tua ci sono state delle sperimentazioni per quanto riguarda il pagamento delle bollette per quanto riguarda una serie di pagamenti e che rientra permettetemi a questo nuovo termine nell'ambito di una silver economy che si sta sviluppando sempre di più nel nostro paese che riguarda proprio le persone con un'età avanzata cioè tutti coloro che oggi non riescono ad utilizzare il digitale ma chiedono quei servizi a domicilio come coloro che utilizzano il digitale da una parte noi dobbiamo investire sulla alfabetizzazione digitale ma dall'altra poter utilizzare le proposte per riempire quel mercato questa è una cosa che non riguarda soltanto il MISE ma riguarda soprattutto il MEF il Ministero dell'Economia e Finanze e su questo abbiamo avviato già vari approfondimenti perché c'erano degli input che erano stati dati in passato a poste quindi se da questo punto di vista quindi nella evoluzione del portalettere che diventa un portaservizi lavoriamo secondo me poste subirà uno stimolo positivo dal fatto che ci sono operatori in concorrenza l'altro tema è l'e-commerce sull'e-commerce io sono stato circa 4-5 mesi fa alle cartiere di Lucca che sono cartiere quindi diciamo in un'epoca di digitalizzazione hanno i loro problemi però mi dicevano che allo stesso tempo stanno fronteggiando la perdita di vendite sul settore diciamo cartaceo di questo tipo con quello che riguarda gli imballaggi perché l'e-commerce sta aumentando gli imballaggi la richiesta di imballaggi legati alla vendita al trasporto di prodotti che tu compri sui marketplace anche su quello se poste la utilizziamo utilizzo questo termine poi mi perdonerà l'amministratore delegato come stimolo a rialzare il livello di standard di qualità in questi servizi soprattutto dal punto di vista delle condizioni dei lavoratori noi secondo me insieme al tavolo sulla logistica che sta cercando di eliminare tutte le distorsioni di questo settore riusciamo a fare introdurre questa grande realtà produttiva in questo nuovo mercato che cosa dobbiamo garantirgli sicuramente una riqualificazione o potenziamento di qualificazione da parte dei dipendenti che dovranno cambiare la loro capacità di intervenire su determinate mission di poste abbiamo un'idea a 360 gradi e sarà molto importante nei prossimi mesi un'interlocuzione con loro che intendiamo fare per cercare di dargli una mano per quanto riguarda invece gli investimenti nel digitale sono ben consapevole del fatto che la programmazione e il settennato parte tra qualche anno però è anche vero che dobbiamo fare i piani per riuscire a far funzionare quel settennato di finanziamento anche sulle nostre esigenze cioè capire quali siano le esigenze sull'intelligenza artificiale e sul digitale in Italia significa anche riuscire ad orientare le modifiche alla programmazione economica in base alle nostre esigenze altrimenti come spesso è accaduto in passato c'è un vestito cucito su misura per altre nazioni e non per noi e però allo stesso tempo tengo a precisare che proprio in questi giorni sono i giorni per chi è stato al governo lo sa che il MEF rileva il fabbisogno economico dei vari ministeri in ottica di legge di bilancio e proprio in questi giorni stiamo facendo una ricognizione di tutti i fondi che vogliamo sia investire e sia vogliamo recuperare da altre forme di investimento che secondo noi sono obsolete ritorno ulteriormente sulla rete team per dire che è proprio il tema rame che ci deve far capire quanto possa essere oggi attuale il rame nell'epoca della banda ultralarga quanto possiamo utilizzarlo e quanto invece non possiamo più utilizzarlo io sono ottimista nel senso che quella è un'infrastruttura strategica che opportunamente considerata può servire però per usare un termine che si usa a Napoli vediamo di non farci fare un pacco come è stato e trovare non perché ce lo voglia fare team ma perché è un processo tecnologico che corre molto c'è un tema di cui si parlava che riguarda sia i servizi digitali quindi le infrastrutture digitali che quelle non digitali che sono le aree rurali e montane quello è il classico esempio in cui non si può aderire alla religione del privato in questi settori cioè il pubblico serve proprio a garantire questi servizi lì dove il mercato non riesce ad arrivare e credo che al di là del grande dibattito che c'è stato negli anni in cui mi permetto di dire alcune forze politiche venivano descritte come quelle stataliste altre come quelle ipercapitaliste in realtà tutti quanti abbiamo tenuto ben presente che c'era bisogno di intervento statale in alcuni settori in alcune aree del nostro paese vale per poste dove secondo me non è detto in un'ottica di servizio pubblico che quella filiale debba stare necessariamente in equilibrio economico perché se aderiamo a questo principio che siccome non è sostenibile economicamente la chiudiamo allora stiamo dicendo che tutto anche i servizi necessari alla sopravvivenza dell'individuo essenziale alla vita alla qualità della vita dell'individuo li dobbiamo chiudere dove non sono profittevoli e invece dobbiamo guardare al complesso cioè poste deve essere sostenibile come modello di business ma nella sostenibilità deve considerare il carattere sociale di alcuni interventi e non vale solo per le infrastrutture vale anche per l'etica nei confronti dei dipendenti ora togliamo un attimo e mezzo poste più in generale su tutte le partecipate di Stato quello che sta succedendo in alcune aree di questo paese per quanto riguarda la contrattualizzazione dei dipendenti e i subappalti le cooperative la somministrazione e così via io sto vedendo delle cose che non mi aspetto da un'azienda pubblica uno degli ultimi riscontri l'ho avuto con il governatore del Flori Venezia Giulia Massimiliano Fedrica che tra l'altro è un nostro ex collega che mi ha raccontato di quello che sta succedendo a Monfalcone per quanto riguarda l'organico di Fincantieri che ormai è l'organico vero di Fincantieri ridotto al minimo il resto fa parte tutto di una serie di subappalti e somministrazioni che ci portano a interrogarci su l'etica dei rapporti lavorativi tra le nostre partecipate di Stato e i loro dipendenti anche per questo io prima dicevo possiamo aumentare lo standard se diamo un'etica e delle norme etiche alle nostre aziende ovviamente tutelando il modello di business che deve stare in piedi non è semplice è una grande sfida ma mai come in questo momento per eliminare le disparità sociali dobbiamo considerare la funzione sociale di tante nostre aziende che per una serie di anni soprattutto a cavallo tra gli anni 90 e il 2000 hanno aderito alla ideologia secondo me religione delle liberalizzazioni sfrenate e così ci abbiamo rimesso in servizi che hanno isolato aree del nostro paese ci tenevo a precisare una cosa che è di principio sulla questione dei voucher per quanto riguarda i servizi digitali quando io parlo di imprese parlo di piccole e medie poi ci sono anche le grandi dobbiamo cominciare ad entrare secondo me in questa considerazione che per ora sto dicendo una cosa di principio nulla di efficace direttamente sulle piccole e medie imprese ma dobbiamo abituarci io credo come governo e parlo come governo non parlo al Parlamento a considerare le imprese in Italia per il 99% nella dimensione che rappresentano cioè quelle di piccole e anche medie e poi ci sono le grandi che per carità non è che vogliamo combattere ma siamo ben consapevoli del tessuto produttivo in cui siamo e questo vale anche per il tema del 5G deve essere uno strumento a servizio delle nostre piccole e medie imprese e siccome sappiamo che la capacità di accesso al credito della piccola e media impresa per riuscire ad utilizzare le tecnologie derivanti dall'esistenza del 5G e la capacità quindi anche di informatizzazione molto bassa perché sono aziende per lo più di dimensione familiare poi magari non sono più a conduzione familiare ma di dimensioni familiari io voglio tenere ben presente soprattutto le piccole per l'operazione dei voucher per riuscire a permettere soprattutto a loro di poter accedere ad alcune risorse digitali fermo restando che sappiamo che c'è una normativa europea che ci impone una serie di passaggi tempestivamente informati lo sarete e spero di dimostrarlo con i fatti non solo con le parole e allora grazie grazie ministro per la sua disponibilità e per il contributo che ha dato la commissione quindi chiudiamo questa audizione grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti